ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come avete capito dal titolo è un video sugli acquisti che ho fatto sia da chicco che dai cinesi sabato come ho già detto che ieri ho fatto una live che è stato pomeriggio quando non da prendere roberto siamo andati alla ocean sta cascando il pacchetto scusate sono andata la ocean e sono passata da chicco principalmente perché mi serviva mi serviva oddio volevo provare un pennellino quelli adati apposta per fare bene le sopracciglia infatti ho preso quello lì che dà l'effetto tatuaggio e un pennellino apposta anche per fare i peletti bene la c'è fa sia bene la forma della sopracciglia fa anche i peletti se li vuoi fare in più è un riempimento anche delle sopracciglia sonata principalmente per quello dopo comunque un po di soldini per me ho comprato quattro cose in tutto insomma praticamente da chicco e poi come avevo detto in live che l'ho fatta ieri cara domenica io mi ero portata sui trucchi a casa di roberto non sapevo se truccarmi o meno che non sapevamo se facciamo qualche giro abbiamo fatto qualche giro sono andata dai cinesi e ho comprato tutta roba del trucco comunque è soltanto una cosa per le unghie adesso lo faccio vedere tutto insomma e alla fine siamo usciti lo stesso e siamo usciti alla fine quindi insomma ti cinesi ho comprato un altro po di cosine se non mi toccava fare anche il video solo per quattro cose da chicco per carità lo facevo lo stesso però così anche qualcosina in più allora questa qui è la bustina di chicco eccola qua 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 dentro adesso tiro tutte le cose fuori aspettate allora le cose di chicco ve lo fare ve le faccio vedere per ultimo e così vi dico anche i prezzi che c'ho anche lo scontrino perché di soliti scontrini e butto per stavolta non so tenuto anche per i viti prezzi tante volte volete fare acquisto da chicco ecco qua finito la bustina finita certi niente vota allora dai cinesi allora ho comprato questo qui vabbè lo scontrino di chicco allora dei cinesi ho comprato per quanto riguarda le unghie vedete e faccio vedere prima questo che la prima cosa che ho acquistato e non costata solo una sono i dotter vedete qui con la luce aspettate aspettate sono i dotter questi pagati 2 99 sono cinque e bianchi comunque beh senza che ve li sto aprire comunque li vedete qua sopra c'hanno tutti e cinque la pallina più grande e qua sotto quelle più piccoline infatti queste più piccoline sono quelle molto adatte anche quando fai nel art su sull'unghia tipo quando di fare i può a queste cose qui comunque queste sono date anche per fare il french comunque vengono bene questi perché fa per fare può fare i pallini proprio piccolini io l'ho costati perché poi c'è c'è no in parecchie ce ne avrò 67 però sono tutti rovinati uno messo rotto per terra lo spaccato metà e tutti i rovinati tutti collati dei smalti cazzi ammazzi e quindi ho deciso di accostarli questi qui nuovi e c'era solo questi decolori l'ho presi bianchi e questi due erano 99 della wine poi mettiamolo qua poi dai cinesi ho acquistato questo rossetto il packaging molto molto carino sono che qua io adesso mi sono scordata di levare prima sta roba qui per un perditempo dopo un video però leviamo subito se adesso una prova ok perfetto guardate il packaging pure quanto è carino qua c'è scritto whining se l'ha gettato 24 ore che dura un rouge rouge all'euvresse va beh è matt questo rosso marroncino non lo so faccio lo swatch qua in questo bellissimo colore qua eccolo qui molto bello ho preso questo ma perché c'è carino tanto tutto dorato pare oro vero molto carino poi dai cinesi ho acquistato aspettate che se non mi sbaglio con la roba di kiko questo qui è di kiko quindi via poi ho acquistato questo fondotita qua non l'ho mai provato sempre della whiny ho preso una gradazione del colore c'era un altro che era più chiaro proprio zona via di mezzo questo qui questi non ho provati mai come piace anche pegagino paco carino queste quelli a spruzzo questo mi è costato mi ricordo 4 euro 99 questo 1 e 99 ma la cinese messa che sia sbagliata me l'ha fatto pagare 1 e 50 meglio così allora questo da loro provare bene non funziona non so come succede perché bene forse lo devo girare ragazzi non funziona che fregatura no non ci credo forse lo devo girare ragazzi non ci credo aspettate che prima di fa casini non ci credo se lo devo sbattere non lo so io questo non ce l'ho avuto mai quindi non so come c'è come funziona cioè non è che sono di capato so fai così ma non ci credo ah no eccolo a posto non devo causare meglio fatemi fa così ecco mi sono sporcata tutta ok e ha è così come fondotinta vedete cioè comunque non è non mi piace come colore l'odore buonissimo comunque cioè va bene alla fine per la mia pelle non ne manco tanto scuro quell'altro era troppo chiaro dopo per parte del mezzo c'ho anche rossetto però lì c'è alla fine va bene come come colore per la mia pelle fa più che bene con l'altro se no era troppo troppo chiaro e questo mi ha costato 4 euro 99 scusate tre ore per bigiama cosa meglio poi dai cinesi ho preso le ultime due cose ho preso questa pallettina qui della naked bride della michela valenti questa è una cosa che c'era eccolo qua questa l'ho pagata boh non mi ricordo 2 euro qualcosa mi pare 1 euro no questa 1 euro e 99 anche questa mi pare con sempre il pennellino in donazione allora qui abbiamo questi bellissimi colori solo che non rendono per niente in videocamera abbiamo un bianco voi lo vedete un po più scuretto ma sono più accesi i colori questo qui è un rosa confetto lo vedete proprio chiaro 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 ma è molto più scuro questi due sono due tipi di marroncino questo più chiaro questo un po più scuro in videocamera farono uguali un marrone e questo è il grigio c'era un po più grigio un marroncino grigio comunque molto bella mi è piaciuta perché ho visto sto rosa mi è piaciuto tanto ma anche come pallettina dopo c'era anche quelli shimmer però ho voluto scegliere di prendere questa perché mi piaceva di più e mi piaceva proprio queste tonalità dei colori opachi insomma poi l'ultima palette copreso dai cinesi voi pensate l'ultima palette non so ne manco quanto veniva perché non c'è scritto nel pacchettino non c'è scritto proprio lì dove era posizionata la palette Roberto gli ha detto ma se la pagamo 250 va bello stesso ha detto sì che culo di sicuro veniva sui 5 euro qualcosa non ci crederete ma ho preso questa palettina carinissima di bella oggi vi avviso che a me io a me piace tanto grande fratello a grande fratello ogni tanto ogni anno ai grande fratello vip e regalano questo astucetto di bella oggi infatti dopo quando va ne so tutta un'altra stanza ci sono tutti i trucchi posizionati di bella oggi a me bella oggi come marca mi piace veramente tanto appena l'ho visto e ho detto no devi essere mia c'erano solo due ed è rimasta l'ultima perché la penultima l'ho presa io la palettina è fatta in questo modo qua anche il peggy e la scatolina molto carina con questi può ha qui la scatola pacco e può ha tutti i luci lucidi ed è fatta così a tre comparti insomma e questa vi dico per me costava sui 5 6 euro secondo me c'era un pagato a 2 euro 50 che culo praticamente c'è sta il blush il fard un altro tipo di fard parevo eppure lo stesso i colori eye shadow ombretto vabbè adesso ve lo faccio vedere aspettate madonna per aprirle però che non volevo rompere scatolina scatolina ma la voglio tenere che fatica ogni volta aspettate ecco ci sono ci sono dai 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 grete se la puoi fare ce l'ho fatta già guardate quanto è carina book ci dovrebbe essere scritto e basta no book molto carina dietro così bella oggi ecco la qual davanti qui l'apriamo primo scomparto vabbè qui ci sta lo specchietto guardate i colori quanto è belli pure qui vi fa vedere tanto chiari questi qua soprattutto ma sono più scuri questi due sono brillantinati guardate ragazzi dal vivo è molto bella vedete i brillantini qua se vedono tanto i brillantini tutti i colorati c'è viola verde rosa bellissima qui lo stesso solo sul bianco e questo è un rosa poi questo colore qui bellissimo proprio andiamo a fare ecco qua uno swatch tipo metallico bello io voglio provare questo qui rosa scusatemi è come ritornata rimane molto chiaro e delicato questo aspetta però un attimo questo qui no comunque belli mi piacciono veramente va bene comunque nel primo piano c'è questi colori qua poi nel secondo piano ci sono questi altri qua bellissimi anche qui ecco vedete com'è i brillantini qua lo vedete di più lo stesso vale per il rosa e il bianco se non li vedete tanto sono così praticamente guardate come luccica qui ci sono questi colori va sul nero il brillantinato bianco brillantinato il bianco il nero opaco il viola opaco alcuni scimm alcuni opachi insomma molto bella e infine ci sta la terra o il fard e il blush il blush è un po' più acceso più vivo come colore anche questo però lo vedete un po' più spenti cioè è veramente carina sono strafelice di aver preso questa palettina è di bella oggi non so ne manco dove cercarli i prodotti di bella oggi insomma questa qui molto molto carina e la scatolina questa me la tengo perché è veramente carina anche la scatolina e sono stata strafelice proprio e queste qui sono le cose che avete visto che ho preso dai cinesi questo 2,99 questo 1,99 questo 4,99 questa pure mi pare su 1,99 questa non lo so l'avevo pagato 2,50 allora passiamo di qua adesso passiamo agli acquistini che ho fatto da Kiko allora prima vi stavo parlando del fatto della sopracciglia eccola qua ah prendo anche lo scrontrino allora intanto vi dico il prezzo di questa allora ibrow marker questa qui mi è costata 7,95 euro cioè 4 cose che ho preso da Kiko ve lo faccio vedere eccole qui 4 cose solo queste 25 euro vabbè pazienza ma questa qui è l'ibrow marker 01 ed è fatta in questo modo vedete ho preso quella lì un po' più vabbè metà a fuoco un po' più chiara eccolo qua il pennellino vedete proprio fa le righe poi se volete fare i peletti tipo no ho preso sto colore qui che rimane molto chiaro della mia pelle insomma c'era anche con l'altra po' più scorretta me l'ha provata la ragazza l'intero sopracciglio e sicuramente non mi stava male adesso vedo comunque perché adesso utilizzo questa dopo in caso lo andrò a acquistare anche con l'altra quindi questa qui mi è costata 7,95 euro poi io ho chiesto se c'era un correttore che copriva proprio bene le occhiaie tipo come quelli che fa vedere che copre neanche i tatuaggi eccetera eccetera e mi ha consigliato questo il full coverage con Cellear vabbè correttore questo è sempre 01 tutto 01 è molto carino anche il packaging allora il correttore questo qui l'ho pagato 5,25 euro però aspettate qui mi sa che mi sono sbagliata che qua i prezzi non li capisco allora no allora 5,25 euro il correttore scusatemi allora il correttore mi ha costato 5,25 euro invece la matita per le sopracciglia il penarello lì 4,15 euro scusatemi no 7 allora guardate quanto è carino questo packaging poi morbido bellissimo si apre così c'è anche lo specchietto c'è anche lo specchietto guardate è carinissimo e questo qui è il correttore qui si vedete questo che l'ho provato e pare che copre abbastanza bene adesso provo a coprirmi questo neoquale un attimo dopo mi ha detto che c'era anche il pennellino ed ecco non ce la faccio adesso col dito non mi viene beh mi ha usato il pennello apposto ha detto se lo volevo acquistare però costava 7 euro col 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 ho detto no anche perché dopo non mi bastavano i soldi ho detto che insomma la prossima volta poi i pennelli ce li ho volendo per sfumare il correttore quindi o con la spugnetta insomma quindi che è questo molto carino mi piace veramente tanto poi pensiamo le ultime due cose che ho preso e due lip gloss matt cioè bellissimi qui lasciate perdere l'ho distrutto perché non mi sapriva ma l'ho preso nervoso allora ho preso questo che rumorei il 14 sono due colori molto strani che già vedete ma anche il peggy carinissimo che è questo verde petrolio militare no? più e più petrolio pare e sono matt cioè è bellissimo io sti colori qui strani non ce li ho avuti mai quell'altro per esempio è blu questo è verde è fatto così vabbè lo faccio lo faccio qua va eccolo qua cioè è bellissimo bellissimo proprio e invece l'ultima questo che ho fatto ecco come vola la roba da Kiko sempre un altro colore il 13 sempre lip gloss e questo qui è il blu ah i rossetti invece mi sono costati 7,95 euro l'uno quindi i due rossetti cioè i due questi qua questo e questo 7,95 euro il correttore 4 euro no il correttore 5,25 euro e la matita questa qui invece mi è costata 4,15 euro vi ho ridetto anche i prezzi eccolo qua bellissimo guardate questo pare metallizzato brillantinato un po' pare che c'è di microbrillanti nell'interno si bellissimo e poi ce n'era un altro blu però era quel blu un po' più acceso stavolta ho voluto prendere questo scuro la prossima volta vado a prendere quell'altro blu perché è bellissimo ed è questo qua lo faccio vedi già questo si è asciugato quest'altro lo faccio sotto così dopo qui vabbè ed è rimangono chiari perché comunque c'è la più passata adesso comunque per farvi vedere le tonalità sono questi due quelli qua cioè guardate il blu è una roba bella un bel po' ma anche il verde e quell'altro blu è più chiaro di questo cioè rimane un po' più forte il blu quello lì classico normale quello elettrico blu elettrico come si chiama cioè bellissimo proprio insomma quindi questi qui sono stati tutti i miei acquisti sia da Kiko che dai cinesi vi ho detto anche i prezzi per la Kiko e dai del cinese vabbè non so se dopo i cinesi così qualunque è uguale ai vostri c'è la stessa roba o costa lo stesso quello non lo so però ve l'ho detto lo stesso poi comunque da Kiko vi ho detto i prezzi così se siete interessati per fare gli acquisti da Kiko spero che questo video infatti vi sia stato utile per fare i vostri acquisti da Kiko insomma e niente spero che il video vi sia piaciuto mettete un pollice in su sotto al video commentatemi fatemi sapere quale è stato il vostro pezzo preferito e noi ci vediamo presto al prossimo video un bacio alla prossima ciao 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 ciao